Sono donata dall'Avo Direttrice Operation di Dolomite Energia. Ora vi racconto come grazie alla collaborazione e alla sinergia tra il mio team e i colleghi del reparto ST, le oltre 700.000 persone che ci hanno scelto possono contare oggi su un servizio ancora più cortese, veloce ed efficiente. Ora, grazie a un'importante azione di implementazione e sviluppo che abbiamo fatto sui nostri sistemi, siamo ancora più vicini alle nostre persone. Vi racconto come. Grazie ad un ambizioso progetto di innovazione e digitalizzazione che abbiamo chiamato Butterfly e che abbiamo concluso da poco, il nostro lavoro è ancora più performante e sostenibile. Gli sviluppi che abbiamo fatto ci hanno permesso di essere più veloci, più vicini al cliente, sono consentito di migliorare la digitalizzazione dei processi di vendita e di post vendita. Si può fare tutto online, in maniera veloce e sostenibile, anche tramite WhatsApp. Infine, ci consente di proporre delle offerte ancora più su misura per i nostri clienti. E tutto questo non è successo con uno schiocco di dita. Butterfly è un progetto che ha coinvolto più di 100 persone per oltre 21 mesi di lavoro. Siamo partiti dall'ascolto delle esigenze dei nostri clienti, come guida la vision e i valori della nostra società, con l'obiettivo di migliorare il nostro lavoro, l'esperienza del nostro cliente ed essere pronti per cogliere le sfide della sostenibilità.